bene ragazzi eccoci qua con un video di unboxing e ovviamente siamo qui da master con fratelli della leggenda c'è master che è già abbastanza esaltato perché i box che ha aperto lui sono andati abbastanza bene non vi spoileriamo niente adesso e dai proviamo di aprirne uno e vediamo cosa ci capita plastica infrangibile conami ce l'abbiamo fatto notare i curibo la copertina bellissimi credo che non fanno niente però lo diamo bene lo stesso perché sono curito sono le nostre palle pelose preferite con doppio sicuro a cominciamo dalla busta in questo giro spicy vediamo anime dei maghi si trovano bene no 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 allora abbiamo ehi ala di sylphid resurgam exis numero 39 utopia nel bozzolo eidos e drago vele vele nemico affamato altro target di spoglia è lui sono ricordo male cosa fa no non fa niente non è le target di spoglia è solo inutile esiste potrebbe essere pazzesco a contratto del destino specchio bianco scavi fossili o la cinquantesima stampa di scavi fossili è spirito fai e di forza la voglia cura ma di mattina sono ancora qui poi c'è da oscurità dottor di dottor scotti via darla e terra per il momento male male fammi trovare qualche cosa di dc fammi trovare drago liviatano evoca tempesta scuola mano destra curi bobas bellissima di ripagate box che ai fossili e io e io e mannacata così forte giustamente è soltentata insano io bruca il piano vero appena passato una ai 140 o fusione chi rossi spettacolo delle ai evoca tempesta astral totia e non nino de metto lui è uno stronzo perché è tipo incantatore 0 0 oscurità a livello 1 perché te lo prendi con la mappa di pire e ma è uguale anima del mago e vedi le statistiche ti gasi e qui c'è il nonnino no iper alza rango magico utopi forza che utopia col bossolo curi beh sono kaiju e anima abbandonata questo un po mi ha mi ha ridato un po di speranza nell'umanità sta borsa ovviamente se il primo fratello pulito gli altri sono sorprenditi anche i fratelli qui per tutto sorprendito non puoi trovare niente barriera di ghiacci ringraziamo sto bambino con la marmita malossi che appena passato alza rango argento e raggio utopia leone finale boom 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 ora come vuole lui grande è una carta bella da vedere non so quanto costa ma è bello da vedere è già qualcosa un'altra fusione kiroshi max rarity divinità terreno zexal che ha la lire dei ghiacci e curibo astrale pazzesco cancello vinco d'anima kuriba let's go ce ne mancano solo due petapulta zexal kuribo e un'altra di forza mantenete di forza 50 x numero x ma poi entri ragazzi non ve lo sto neanche a dire in realtà ve lo dico comunque se vi servono le singole oltre al box vero e proprio scrivete al buon master che ha praticamente 500 copie delle carte del caso maga pasticcione che arriva i fantasmi di guanti squalo mano spada del pinguino e centauromina serve a qualche cosa centauromina beh si fa con un mostro luce guerriero e un mostro bestia attenzione target di spoli questo ok ok qua c'è conversione apparecchio drago stella cadente detonare crepuscolo e un altro centauromina mi risultato perché dicevo che era tipo una roba fuoriata strano per un attimo ci ha perduto il mio cervello si sperava allora curi babylon fammi levare questa cartacea che mi da uggio nobile cavaliere fascino contratto e la mappa carta over ipata come poche questa maggiore ce ne compara no io non le giocherai perché ti cava metà le poils però pagina ognuno è libero di avvicinarsi alla sua game loss come preferisce bianchetto del ruoto apparecchio specchio e un altro animo abbandonato cosa sta succedendo ma dove sono le altre secret queste le ho già viste fammi vedere quello un po più interessante dai spirito di curibo e del natale ok zemmaia molla cancello curi baby abbiamo finito misè terreno zexer e colpo d'uccello del colpo d'uccello le nostre carte preferite è vero con interferenza cypher drago e l'idea ortica e zs saggio utopico da sto lato non si apprezzata ecco carta più rara di tutto il set maga pasticciore bellatrice apparecchio decatron e parata dei giocattoli che fra poi gli zeffo i lati in maniera fighissima stacca non so come mai cosa c'ha di strano rispetto al solito non riesco a capirlo maestro anche forse i bambozzi non sono affoilati ma solo le finestre e l'asfalto però è sburonissima dal vivo la camera non rende avviciniamo ormai alla fine di questo box o rcd ma un dominatore di pensieri cattivissimo le sorghe come versione squalo e lui e lui e lui no 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 ma è comunque forte crack però però non è drago leviatano scritto con le rune della luna ecco non è la stessa cosa ci sono solo per sbustare lui poi torno a casa e vino fatto cammino zanne nascoste guarda queste per il goblino belle ste carte così col goblino infame barire cavallo e giudizio di rinascita trappola si messa c'è già che trovi quello malissimo beh a te qui bene argento eccolo vabbè box migliore questo è il box migliore che hai sbustato di la verità adesso che c'è anche lui è fatta però quanto è bello ragazzo curi bambino scarafaggio via darla vercelo il graffio anche questa è una bella carta e curi b 4 busta si sta cominciando a vedere la fine non ho sbustato niente di clamoroso sono un po triste curi borno iper alz kaiju spettacolo dragoroid e insomma insomma mettiamole qua le nostre ultime tre buste preghiamo insieme per trovare qualche cosa di degno di nota neanche un eroe malefico trova arrabbiato detonare specchio portatore schiavi ricompensare che questa questa è ok questa è una buona carta ma via va bene però non mi accontento mai accontentarsi nessuno si deve mai accontentare vogliamo di più pure i buffo dottor di divinità zanna e sto tizio inutile mi fanno triggerare un sacco che hanno stampato un sacco di carte con scritto nobile cavalieri non c'entra niente con i nobili cavalieri il tizio che ha pensato di chiamare i nobili cavalieri lo voglio veramente incontrare sotto casa sua e qua mi fermo tiro una testata mi chi vuole ultima allora già parte bene con astral fortissimo spirito zs zv o quella ma non è quello vabbè pochieri ok però non è non è quella che comincia sempre quella e finisce con maghi però pace ragazzi questo è stato il box che ho aperto io il peggiore l'ho aperto io qui in desto deve stare tranquilli insomma fatemi sapere come sono andati anche i vostri box se avete comprato qualche cosa e come viaggete anche inizio video se vi dovessi servire qualche cosa trovate qui tutti i vari link per contattare il buon masterona quindi io vi saluto ciao a tutti master vi saluta anche i curibo vi salutano un po non so sono un po inalberati questi curibo davanti nella copertina e ci becchiamo al prossimo video del canale ciao ragazzi ciao ciao